Oggi è anche una bella giornata perché si è installato il nuovo robot XAI nel nostro ospedale. Lo aspettavamo da due o tre mesi, non se ne poteva più e il fatto che l'abbiano messo un'ora fa ci è sembrato una buona notizia. Il 2017 si è chiuso con l'arrivo del nuovo robot per la chirurgia generale specialistica all'ospedale San Donato di Arezzo, un ultimo tassello che va così ad aggiungersi agli importanti investimenti dell'Asla Toscana Sud-Est, la seconda azienda sanitaria più grande d'Italia. Abbiamo investito 140 milioni, questa è la cosa in breve, di cui 39 sono stati investiti in rinnovo delle tecnologie. TAC, risonanza magnetica, ecografi, colonne laparoscopiche. L'innovazione per noi è obbligatoria perché il nostro è un sistema che ha il vantaggio di potersi migliorare per la salute dei cittadini e perfino per migliorare gli esiti di cura. Resta più che mai attuale il grande tema delle liste d'attesa. Se da un lato cresce la richiesta di visite da parte della cittadinanza, dall'altra si registra anche un incremento delle risposte da parte dell'azienda. Aver separato gli esami di primo accesso, quelli per la diagnosi, dagli esami di follow-up, vedere come nel tempo va un esame, è stato eccezionalmente risolutivo. Noi oggi abbiamo per il primo accesso raramente più di 15 giorni di attesa. L'impegno per rendere le cure accessibili a tutti è stato uno degli obiettivi primari in questo 2017 dell'azienda sanitaria. Per dare lo stesso accesso alle cure a tutti significa che qualcuno ha bisogno di un'attenzione maggiore. E questi sono chi? Sono le persone con disabilità, sono i bambini, sono le donne. Abbiamo fatto un profondo lavoro insieme ai servizi sociali, insieme alle scuole, insieme alle istituzioni, le amministrazioni comunali per venire incontro alle famiglie con i ragazzi disabili. Abbiamo fatto un lavoro di integrazione forte con le famiglie dei ragazzi autistici. Ci siamo detti che volevamo essere una squadra perché solo una squadra unica e vera può affrontare i problemi di salute delle persone. E lo abbiamo fatto.